Messe nere o rituali esoterici? A porsi con preoccupazione questa domanda sono alcuni cittadini di Vallefoglia che da giugno scorso, davanti ad uno degli ingressi del cimitero di Colbordolo, si imbattono periodicamente di fronte a scene come queste. Candele, mazzi di fiori e pezzi di pane che vengono trovati da chi frequenta la zona senza un reale perché. Episodi che si consumano presumibilmente di notte, quando il buio si infittisce e diventa più difficile essere notati. Ma di questi comportamenti che si presentano frequentemente ne è davvero stanca ma soprattutto spaventata la signora che ci ha contattato, così come altri suoi compaesani che si domandano continuamente il motivo per cui si trovano davanti ad un mistero come questo. Che oggetti di questo tipo facciano riferimento a gruppi satanici o a riti propizzatori per la resurrezione dei morti sono illazioni e deduzioni di chi ci ha segnalato questi episodi, non insindacabili e sicuramente opinabili. Preoccupazioni però alle quali non ha dato ancora una risposta l'amministrazione comunale di Vallefoglia, sollecitata da tempo a posizionare una telecamera per poter individuare lo scuro colpevole.